Ciao a tutti, benvenuti su Cartisia! Oggi farò vedere come farcire un buonissimo pandoro. Già il pandoro è buono di suo, ma noi lo renderemo ancora più buono. Iniziamo subito! Per prima cosa, con un coltello, dobbiamo tagliare a strisce il nostro pandoro. Quindi tagliamo prima la parte di sotto. Così, e man mano saliamo e tagliamo a strati tutto il nostro pandoro, lasciando lo spazio di un dito. Un dito, un dito e mezzo. Tagliamo così il secondo strato. Andiamo così a tagliare anche il terzo strato. Quarto strato E quinto ed ultimo strato. Bene. Tagliati tutti i nostri stati del pandoro, andiamo a prendere i nostri deliziosi ingredienti. 200 ml di panna da montare. Con le fruste andiamo a montare la nostra panna. Dopo aver montato bene la nostra panna, prendiamo un'altra ciotola. Versiamo 250 g di mascarpone. Quindi versiamo nella nostra ciotola 250 g di mascarpone. Versiamo nella ciotola insieme al mascarpone 110 g di zucchero. E andiamo a amalgamare il tutto. Per amalgamare bene il tutto ci aiutiamo anche con le nostre fruste. Adesso aggiungiamo al nostro mascarpone un cucchiaio colmo di nutella. E lavoriamo il tutto con le nostre fruste. Adesso dobbiamo incorporare il mascarpone con la panna, con l'aiuto di una spatola. Quindi mettiamo poco alla volta la panna e andiamo a incorporare il tutto con movimenti che vanno dal basso verso l'alto. Quindi mettiamo il tutto con la panna e andiamo a incorporare il tutto con movimenti che vanno dal basso verso l'alto. Quindi mettiamo la panna nel recipiente del mascarpone e andiamo a incorporare il tutto. Sempre delicatamente con movimenti che vanno dal basso verso l'alto. Ho versato tutta la panna nel mio recipiente e vado a lavorare piano piano tutto il resto della panna. Ok, a questo punto abbiamo amalgamato bene tutti i nostri ingredienti. Adesso prendete il vostro cioccolato fondente oppure cioccolato al latte, un po' come vi piace a voi, e lo andate a sciogliere a bagno maria con due cucchiai di olio di semi di soia. Nel frattempo che il cioccolato fondente si scioglie e quindi lo facciamo raffreddare un poco, vado a prendere un'altra volta il nostro pandoro. E iniziamo così a farcire il nostro pandoro con la nostra crema. Quindi mettiamo uno strato della buonissima crema che abbiamo creato e farciamo così il nostro pandoro. Credetemi, l'odore è davvero buonissimo. Si sente un odore buonissimo. Quindi andiamo a farcire il primo strato. A questo punto andiamo a mettere il secondo strato di pandoro e lo mettiamo in questo modo per creare il nostro albero. Quindi lo mettiamo così e andiamo a mettere un altro strato di crema. Crema, mascarpone, panna e nutella. E' veramente una bomba calorica ma è davvero buona. Durante le feste ci possiamo concedere qualche strappo alla regola. Una volta farcito il nostro secondo strato andiamo a posizionare un'altra fetta di pandoro e un altro strato di crema. Quindi un altro strato di pandoro e un altro strato di crema. Siamo quasi arrivati in cima. Quindi ancora una volta un altro strato di pandoro e un altro strato di crema. Siamo arrivati in cima. Quindi mettiamo il nostro pandoro così. Ed eccoci qui. Siamo arrivati alla cima del pandoro. Andiamo a prendere il nostro cioccolato fondente. Io l'ho fatto sciogliere con due cucchiai di olio di semi di soia. E facciamo proprio una cascata di cioccolato. Quindi mettiamo il cioccolato sopra e lo facciamo così cadere nei bordi del nostro pandoro. Abbiamo creato così una vera e propria cascata di cioccolata. Come vedete la cioccolata è andata su tutti i bordi del panettone. È venuto veramente un panettone, credetemi, buonissimo e anche di un bell'aspetto perché è a forma, diciamo, è a tema natalizio perché è un vero albero pandoro. Potete mettere in cima al pandoro anche una stella in pasta di zucchero o anche un biscotto o qualcosa che vi piace di più. Credetemi, è davvero buonissimo. Ed è un dolce che ti aiuta, in un certo senso, a riciclare già un dolce che è buono. Il pandoro è davvero buonissimo ma farcito è ancora più buono. Io spero che questo video vi piace ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Vi invito a visitare il mio canale e a iscrivervi al mio canale perché ci sono tante video ricette in arrivo. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Baci da Cartesia. Ciao ragazzi, alla prossima! È davvero buonissimo, delizioso, buone feste! Una cascata di golosità. Buon Natale!